Benvenuti a Abbadia San Salvatore, una città per visitare, per scoprire e per vivere. La storia, la cultura, l'arte e i sport che vengono insieme nel meraviglioso scenari di Monta Emiata. L'esercizio evocativo per visitare in tranquillità in un bar. E se ti piace le emozioni forti, venite e si tratta con l'adrenalino. Ammigliate i nostri rivoluzioni e tenete divertente di ski tutto il giorno. Perché il sport qui è a casa. Vari strutture dedicati a diverse discipline. Un centro di sport di più di 800 metri sui livelli. Un posto per tornare in forma, trattare, tenere divertente. Dedicare qualche tempo a te stesso, dove tutto è felice. Prendete con noi in questa realtà. La nostra storia fascinante, piena di paesi, dove le ruote e la memoria, combinati con scenari unico. Venite sulle strade dell'ultima città, uno dei villaggi più medievoli in centrale Italia. Il nostro pasto. Con la testimonianza di un mino che era uno dei più importanti in Europa. Andate sulle nostre strade. Un passaggio guidato, che ti prenderà alla maggior parte di paesi dell'Europa. Un'esperienza che avvolgerà il vostro senso. Lasciatevi essere ammigliato dalla nostra professione. E poi, ammigliate il divertimento. Mettate le nostre tradizioni di sapere e le nostre specialità. Oggi, ragazzi, pregoci che poteva un pietà in un'espalla o in un'espaa. In questo momento, stop for a niente, for a niente, per una settimana, per farlo come necessario. Ma si può diventare la sua casa. Debo vivere te sempre da consideremi circa il nostro magico. Questo è Abbadia. Ed è il nostro nome. Ed è il tuo nome. Perché Abbadia San Salvatore è il mio nome. We are waiting for you.